Musica Bella a tutti ragazzi e ragazze Oggi come potete vedere siamo qua con questo nuovo video E' un video molto speciale per me perchè signori Come potete aver visto sul mio canale siamo arrivati ai 500 iscritti Ormai 532 Quindi questo qua è un video ringraziamento Normale, semplice, fatto così Senza nessun particolare editing Senza nessun funny montage di gameplay E' una cosa fra me e voi Fra me e voi perchè signori Perchè grazie a voi sono riuscito ad arrivare a questo mio grandissimo traguardo Dei 500 iscritti Mi sono iscritto il 16 ottobre 2014 su youtube Si può dire che il mio inizio di carriera su youtube è iniziato proprio quel giorno lì Io non avevo iniziato come fanno molti per gioco Per divertimento questa carriera su youtube Ho iniziato perchè a me è sempre piaciuto fare dei video Che siano tutorial o comunque gameplay da portare O è anche magari video divertenti O è anche video divertenti, ballevari Su youtube Infatti precedentemente avevo altri canali Che poi vabbè ho dovuto chiudere perchè uno magari non mi ricordava la passione E' un altro Per problemi di copyright perchè ancora ai tempi non ero molto esperto di queste cose qua E quindi ho potuto cambiare Intanto una volta mi chiamavo Mad Moose Poi New Theo, nomi così Ero proprio diciamo molto giovane Non che sia vecchio adesso Comunque, niente signori Quindi volevo appunto ringraziarvi di tutto Per questo bellissimo traguardo comunque per me è una soddisfazione Sia personale che proprio come youtuber Anche se piccolo perchè comunque non sono uno che ha migliaia di iscritti Però vi ringrazio veramente perchè stiamo crescendo velocemente e molto bene E signori Io comunque spero ogni giorno di portarvi Cioè ogni giorno no Per quel lavoro non riesco molto a portarvi i video I video io ve li porterò dal lunedì al mercoledì Perchè dal giovedì al lunedì mattina diciamo Non posso perchè lavoro Quindi signori se riesco Magari nel giovedì o venerdì pomeriggio Se riesco proprio qualcosa a portarvi ve lo porto Però i giorni sappiatelo che Io porterò dei video sul mio canale Sono dal lunedì pomeriggio Al mercoledì Sia diciamo Quindi Un grazie mille veramente signori A tutti voi che mi avete portato questo Che mi avete portato a raggiungere questo grandissimo traguardo Io Spero comunque Che continuate a seguirmi Spero che tutto quello che ho fatto per voi E quello che ho fatto anche per me sul mio canale Mi sia piaciuto Continuate sotto qua nei commenti a scrivermi Cosa ne pensate Che video potrei portarvi sul mio canale Che potrebbero piacerevi sempre un gameplay O un nuovo video di tutorial Che magari vorrete vedere Fatemi qualche domanda signori se volete farmela Potranno iniziare una nuova serie di Facchietime eccetera Quindi signori Quindi Grazie veramente tante signori Per questo bellissimo traguardo Dei 500 punti iscritti Spero di raggiungere altri obiettivi Come i 600, i 700 e via andare E spero comunque di farlo sempre con voi Adesso Vi ricordo Ah vi ricordo Visto che siamo arrivati a 500 iscritti Se qualcuno di voi magari si fosse perso Lo speciale 100 iscritti Mamma mia E' passato un bel po' di tempo Lo speciale 100 iscritti Di andarselo a vedere Lascerò il link in descrizione Ma niente Ragazzi Oggi pomeriggio Uscirà un nuovo video Quindi vi raccomando Andatevelo a vedere Sarà un video gameplay credo O un gameplay uditore Spero Vi raccomando Andatelo a vedere E signori Grazie veramente di cuore a tutti Per avermi aiutato A raggiungere questo traguardo Grazie mille Questo è il mio speciale 500 iscritti Spero vi sia piaciuto Lasciate un like Commentate Condividete Al prossimo video Bella